Per poter attuare il processo di trasformazione digitale all'interno delle fabbriche e soddisfare le nuove esigenze in termini di flessibilità applicativa, rapidità di engineering, efficienza produttiva e sostenibilità ambientale, è necessario disporre di un sistema di automazione hardware e software che sia digitalizzato, flessibile e connesso e che faciliti l'interoperabilità di macchine e sistemi di gestione della produzione. Attraverso l'analisi dell'anomaly di detection e all'utilizzo di algoritmi di data analytics, l'utente finale può implementare un piano di manutenzione predittiva che garantisce la massima efficienza e disponibilità dell'impianto grazie all'utilizzo delle nostre specifiche piattaforme hardware e software. Se sei interessato ad approfondire questi argomenti, partecipa al mio intervento agli SPS Digital Days, segui inoltre i nostri aggiornamenti su Contact Place e scopri le soluzioni di Severodrive. Ti aspetto!